Ciao, ciao a tutte e a tutti. Allora, oggi mi voglio raccontare un po' la giornata perché oggi sono iniziati i saldi a Roma. E quindi, dato che questa notte io ho lavorato, perché? Perché lo sapete da voi perché ho lavorato, no? Dopo aver girato per tutta Roma a portare le galze, questa mattina ho detto un po' di meritato shopping, mi spetta. E quindi ho fatto un bel giretto vicino a casa mia e ho comprato un po' di cosine che adesso vi faccio vedere. Allora, per prima cosa ho comprato un paio di scarpe che sembrano un po' esagerate, però ai piedi stanno bene, insomma, almeno a me piacciono. Adesso ve le faccio vedere. Eccole, non sono fashionissime, super fashion. Sembrano alte, cioè no, sono alte, però hanno la super zeppa che mi mantiene in equilibrio. Io sono un po' malata per le scarpe, ci potrebbe un negozio. Poi dopo, dove sta? Stivaletti. Grigi. Questi non sono tanto alti, sono comodi così per tutti i giorni. E questi li ho pagati 16 euro in saldo. Mentre le altre scarpe mi sembra 55, costavano 89, una cosa del genere, quindi è andata bene. Poi, io adoro le scatole, le rompo pure, quindi ho preso queste. Ne ho altre quattro. Piano piano ci riempio tutta la parete. E così, porto oggetti, cose varie. E poi, sì. Questi, dici, che cos'è? Questo è un po' agghiacciante. Sono dei guanti che hanno il taglio qui. Questo lo dolierò perché è a quanto sceno e ci faccio un fiorellino magari in feltro. Questi venivano 6,90. Ho fatto un affarone. 5,52. E va bene. Poi, calze. Una camicia. Guardate. Non so se si vede bene. Comunque, ha tutte delle luce qui davanti. E ha una cinta. Poi, sopra. Cioè, è il punto vita. Anche questa. Costava 24,90. L'ho pagata 17,43. E poi, vabbè, un paio di jeans. Appilatissimi. Con un po' di strappi. E per ultimo, me ne tolgo. Per stare comoda in casa, queste, della in blu. Molto carine. E comode. Che magari da una giornata su quei trampoli. Ci vuole. Avevo un secchiello sotto la scrivania. Per mettere le carte da buttare, così. E io l'ho ricoperto con la carta di riso e la colla. Ed è venuto fuori questo. Poi ci ho passato una mano di lucido. Ma ne devo passare due? Fatemi sapere. E poi, mi sembra di aver detto tutto. E per ora, non ho in mente tanto quello che devo fare prossimamente. Però, anzi sì. Voglio tuffarmi anch'io nel mondo delle embroidery. Solo che devo... Ah, ecco. Ve lo domando a voi. Ho pensato... Avete visto? Per fare i bracciali embroidery ci sono le basi dei bracciali. E siccome non riesco a trovarle nei negozi. Non mi va di comprarle su internet perché costano tanto. Avevo pensato... Siccome ho visto su Paint Your Life una cosa... Un tavolo ricoperto con una lastra di zinco. Ho visto che lo zinco è abbastanza malleabile. E però non è proprio morbido. Quindi, se qualcuno mi sa dire dove si trova la lastra di zinco. Io ne prendo un pezzettino e la testo. E così vediamo che cosa esce fuori. E poi niente. Ultimamente su Realtime sto vedendo anche Macometi Vesti. Che è uno dei miei programmi preferiti. E infatti ho preso spunto da loro anche per... Per scegliere vestiti e accessori. Quindi mai più senza tacchi. Mi raccomando. Va bene. E' che questa notte non ho dormito. Quindi sto un po' così. Ah ecco. Però anche io l'ho ricevuta. La calzettona. Spettacolo. E' tutta piena tempestata di cioccolate. E la maggior parte di caramella e la liquirizia. Perché a me piace molto la liquirizia. E la cannella per la cronaca. A chi può interessare. E poi... Ultima cosa. E poi vi saluto. E ho comprato il libro di Clio. E' uscito da un bel po'. Non l'ho comprato adesso. E' carino. Interessante. Ci sono tante ricettine per fare creme. Rossetti tonici. Insomma. Poi sperimenterò. E vi farò sapere. E niente. Ora vi saluto. E vi mando un bacione. Ciao.